Ciao a tutti, io sono Kri e bentornati nel mio canale Cucci Cucci ASMR Oggi nuovo video, prima però di introdurmi nell'argomento di oggi che sarà Cucci Cucci ASMR, le origini Sì, perdonatemi come sempre per gli eventuali rumori esterni però mi sono resa conto che a casa mia c'è Macello H24 cioè qui non siamo razzissi nei confronti delle ore assolutamente non è che c'è tipo un'ora in cui non passano le macchine, non passano sempre quindi ma tralasciando questo comunque vi devo dire due cose importantissime numero uno, questo pigiamo che avete visto in questo video cioè che state vedendo in questo video e che avrete già visto in altri due video che appunto sono quelli che ho caricato in precedenza non è che non viene mai lavato ecco ma i video sono registrati sempre con una certa distanza e quindi caso vuole che io mi ritrovi sempre con lo stesso identico pigiama ma vi giuro che non lo faccio apposta il problema è che registrando comunque a una certa ora che la notte non mi va di mettere magliette, velpe, maglioni ma viva i pigiami e la semplicità ecco numero due non so se riuscirò a farveli in un altro video ma penso proprio di no perché oggi è il 21 dicembre che sto registrando quindi il tempo di montarlo e di caricarlo e di fare tutto quello che devo fare non ci riuscirò a caricare un altro video ne sono sicura quindi ci tenevo tantissimissimissimo a farvi tanti auguri di buon natale e di buone feste mi raccomando non sono qui per dirvi passate il natale con la vostra famiglia con il parente X con il parente Y passate queste feste con le persone che vi fanno stare bene con le persone che vi fanno sentire apprezzate e che voi rispettate ecco è una cosa che ci tengo a dire è il discorso degli animali però diciamo che tutto sommato nel mondo ASMR soprattutto ASMR Italia ci si conosce un po' tutti quindi dico meno male si vedono si sentono le persone però c'è a me fa proprio schifo il discorso che le persone a Natale partono appazzano gli animali e le lasciano per strada e così via ecco cioè non la concepisco come idea e tutto questo per dirvi ecco cioè per chiunque mi stia guardando anche di pochi non sa completamente che cosa sia l'SMR mi raccomando godetevi queste feste ma se dovete partire non abbandonate assolutamente i vostri animali perché è una cosa nel senso veramente brutto vile e a mio viso meschino ecco comunque io di cosa vi voglio parlare oggi sono già tipo quattro minuti che platero praticamente nello scorso video vi avevo chiesto di farmi delle domande perché volevo fare un video ask dove appunto vi rispondevo e un video che comunque realizzerò ecco non è questo il video è in questione però ben presto vedrete ecco il video ask realizzato ho deciso ho deciso di estrapolare una domanda e di rispondere in un video a parte perché secondo me è un argomento molto molto interessante e avevo proprio piacere trattarlo singolarmente separatamente dalle altre domande non perché non perché non abbia apprezzato le altre domande anzi veramente ho ricevuto non le solite domande a cui puoi rispondere tipo qual è il tuo colore preferito e tu rispondi in rosa no ma domande di una certa complessità però questa qui che sono le domande di Claudio mi hanno colpito veramente tanto 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 vi vado a leggere le domandine che mi ha fatto sono tante domande ma tutte collegate hanno tutte un minimo comune denominatore che è l'origine del mio canale in questo caso allora Claudio mi scrive ciao Cristina io sono sempre interessata alle origini come dove quando hai scoperto l'SMR cioè l'acronimo ASMR e un video con questo nome su youtube e cosa hai pensato la prima volta che ti ci sei battuta da un altro lato meno formalizzato le sensazioni ASMR sono recenti o le hai sempre provate fin da bambina quali sono le esperienze ASMR che puoi ricorrere all'infanzia o comunque particolari ricordi e sensazioni che ora con il senno di voi ricolleghi all'SMR oddio ora non ricordo sei già parlato di queste cose in un video eventualmente cambierò domande grazie e un abbraccio non la lascio qui a parte che ho trovato questi due pupazzetti e dopo aver creato un ambiente natalizio ti dico immediatamente Claudio che no non ho mai parlato di questo e quindi non c'è assolutamente bisogno che tu cambi domande ma questo te l'ho già detto con un commetto di risposta e ti mando un grossissimo abbraccio virtuale anche a te allora voi dovete capire che io non ho cominciato a provare ASMR da bambina ma ho cominciato a provare ASMR da neonata giornalmente ricevo messaggi da parte vostra in cui mi scrivete ciao gri ciao grissi ciao gucci gucci ora il gri e il grissi si capisce da dove provengono nel senso sono le appreviazioni di cristina il gucci gucci però da dove viene boh oggi sono qui per svelare questo tra virgolette mistero molti cioè non molti alcuni di voi hanno già fatto delle ipotesi un ragazzo mi ricordo che un giorno mi scrisse in un commento ma tu ti chiami gucci gucci perché gli piacciono i cani e mi ho fatto ridere perché è vero a me piacciono tantissimo gli animali in particolare i cani in particolare il labrador color miele cioè sono fissata con quel cane e prima o poi cioè sarà mio sarà mia una cosa brutta perché non lo so io gli animali non li considero come oggetti ma proprio come membri della famiglia come fratelli e sorelle una visione un po' strana forse comunque i cani in gucci gucci non c'entrano veramente nulla praticamente io fin da neonata sono sempre stata un piccolo bibistrello io non ero la solita bambina che alle 5 del mattino o alle 6 si metteva a strellare e a urlare e a piangere perché ovviamente si svegliava no io dormivo tranquillamente però non dormivo la notte la notte per me era festa facevo festini per me dai culla nella culla però i miei genitori non erano molto d'accordo di tutto ciò perché loro la mattina fortunatamente perché è una fortuna avere trami i genitori che lavorano soprattutto al giorno d'oggi comunque si dovevano alzare e quindi non è che potevano stare lì da me io a un certo punto mi dovevo coricare quindi mio papà si era studiato un chiamiamolo meccanismo per farmi attormentare e cioè quello di prendermi in braccio cullarmi tra le braccia perché questo mi aiutava tanto io sono sempre stata una grandissima congolona ma anche adesso e ripetermi dolcemente sussurrarmi gocci 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 e niente questa era la mia ninna nanna riusciva a farmi tranquillizzare rilassare e addormentarmi è dolce non lo so io io ho sempre non significato molto dolce questa parola che realmente non significa nulla però è sempre stato il mio primo primissimo riflesso ASMR quindi nel momento in cui ho dovuto decidere il nome del canale non ho avuto dubbi gocci gocci ASMR perché ASMR è la cioè è quell'acronimo che ti identifica immediatamente il canale ci sono altri canali ASMR sempre che non portano la scritta però mi piaceva poi secondo me ci sta bene gocci gocci ASMR quindi l'ho voluto mettere altra cosa che mi aveva chiesto Claudio è quali sono le prime esperienze ASMR che puoi ricordare all'infanzia allora io ho provato ASMR come vi dicevo prima fin da subito poi successivamente c'erano delle cose che mi attiravano più di altre innanzitutto la legna che arde io mi incanto quando vedo un camionetto mi piace veramente tantissimo mi rilassa da morire un'altra cosa è il suono delle onde del mare che appunto vanno a toccare se possiamo direlo così la panticcia e producono quel suono meraviglioso la mia solida cover con l'unicorno rigida andiamo avanti come dove e quando ho scoperto l'acronimo ASMR allora praticamente per quanto riguarda il come io seguo da tantissimo tempo una signora che ha un canale qui su youtube il suo nome è ssd non so se l'avete mai sentita nominare susanna susanna forse sarebbe meglio dire aveva un canale di estetica dedicato proprio non al rilassamento ma alla cura del corpo ecco diciamo così e spesso faceva video in cui faceva vedere come lei faceva scusatemi le troppe ripetizioni comunque dei massaggi alle suoi clienti e chiedeva se poteva registrarsi e registrarle mentre le massaggiava delicatamente e tutto questo ha avuto un riscontro molto positivo perché i suoi iscritti hanno molto apprezzato questo i suoi video li potremmo definire come unintentional ASMR i cosiddetti unintentional ASMR sono quei video che comunque non partono con lo scopo di far rilassare però realmente suscitano sensazioni di ASMR massimo sbarra massimo rilassamento a chi li guarda e quindi in unica parola veramente i suoi video erano meravigliosi io provavo e provo tuttora tutte le volte che ti riascolto tantissimi ma tantissimi tingles ovviamente vi lascio il link qui sotto al canale in questione di cui sto parlando perché parlo prima del passato perché purtroppo questa donna non è più tra di noi ecco e niente non mi va di contaminare sempre così un video ASMR con pensieri tristi però purtroppo ora è un bellissimo angelo diciamo questo però io ancora in tutto ciò non sapevo cosa fosse l'SMR io l'ho scoperta grazie a uno youtuber che prima seguivo veramente tantissimo ora un po' meno che in un video vlog a un certo punto ho detto ragazzi non sapete cosa ho scoperto ho scoperto l'SMR è bellissima e vi fa stare bene vi fa rilassare e se volete andate a darci un'occhiata ecco ai canali ASMR io mi sono incuriosina troppo ho digitato su google ASMR e il primo video che mi è smontato è stato uno di Hermetic Kitten Chiara in inglese e quindi così sono entrata in questo mondo bellissimo fatto di suoni e di persone gentili e di pace io non lo so vedo la community ASMR come qualcosa di idilliaco di puro forse sarà solo la mia illusione ma finora è così e niente sono entrata e non sono più uscita infatti eccomi qui a fare i video ASMR per voi a proposito siamo a 200 non so perché ho fatto così tipo pittorio io sono troppo contenta c'è ragazzi 200 persone che mi seguono e ho fatto pochi video ancora sono troppo contenta grazie di cuore a tutti quanti ok non so se dovevo rispondere ad altro cosa hai pensato la prima volta che hai visto un video ASMR e sempre una domanda che mi ha posto Claudio allora normalmente chi guarda per la prima volta un video ASMR pensa a due cose oh che video strano però sai mi piace magari ne vado a vedere un altro sì sì mi piace guarda mi sto rilassando guarda ma è bellissimo e poi tipo comincio a chiamare il genere dicendo ho scoperto il mondo dell'ASMR ho trovato ecco un nuovo spazio e niente quindi questa può essere una prima reazione stupore e meraviglia inizialmente però poi massima felicità oppure stupore iniziale però non lo so ci sono alcune persone che lo trovano inquidante lo trovano stano e quindi dico è stata la prima e l'ultima volta che ho guardato questo genere di video poi ci sono anche masochisti cioè quelli tipo ma che cosa strana non mi piace però guardo i video ti metto non mi piace e ti lascio un commento negativo ecco quelle sono le persone tipo masochisti perché si fanno del male da solo c'è nel senso se a me non piace una cosa non vado a guardarla e comunque anche un po' cattive perché non lo so c'è nel senso a te non piace ma a me si quindi perché mi devi criticare io non l'ho mai fatto questo suono però è bellissimo mi era meglio così comunque la mia reazione non è stata nessuna di queste per me è stata una reazione a parte nel senso nel momento in cui ho visto il video di Chiara mi sono resa conto di tutte quelle volte che mi rilassavo e pensavo di essere strana io ho trovato una logica in tanti miei pensieri che sono sempre stati confusi quindi niente ne sono rimasta affascinata fin da subito da questo bellissimo mondo e niente ragazzi io penso di aver finito di chiacchierare con voi perdonatemi se ho alzato la voce più del tutto oppure se ho parlato più velocemente però tante volte l'ho fatto per mascherare alcuni rumori esterni voi non avete idea di quantità che dovrò fare in fase di montaggio ma vabbè per voi questo è altro e quindi vi auguro buone feste in generale ma vi auguro la buonanotte e un buon proseguimento di giornata se invece state vedendo questo video così tipo in tarda mattinata oppure appena svegli per iniziare tipo la giornata in una maniera un pochino più dolce ciao ragazzi e al prossimo video volevo chiedermi di farvi delle domande e quindi volevo proporvi un video ask volevo appunto realizzare un video ask in cui rispondo alle vostre domande quindi se avete piacere lasciatemi qui sotto con un commentino una due o quante domande volete sulla mia vita sulla mia persona sul mio canale qualsiasi cosa tipo vi possa interessare ecco